su potati salici stenga a raccavazzare i zeppi si ecco la panna bisogna guadagnarsela questo è il piu buono che erano questi e questi metto l'occhio guarda Natalia che viene molto secca ok questo è già costruito ah ecco già ce l'altro una volta un po' questo questo è il piu buono che piu sta qui questo è il piu buono 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 più raccapezza è meglio se dico questo se dico questo qui ci sono un po' più pesanti aspetta eh io qua dovevo l'abbra che cosa si fa qui c'è la danna da dietro alla mozzotega allora facciamo così ecco qua anche appena questo mi giusto e che è questo se vorrei oh questo questa questo e di questo se vorrei pistone di pratica Nella vita bisogna arrangiarsi, questa è più lunga, se ne c'è per tutti i costi. Nella vita bisogna guadagnarsi la pagnotta del pane. Ecco, faccio così. Vediamo un po' questa patta. Un, due, tre. Potremmo farlo così. E quindi altri pezzi. Ora ecco, bisogna lavorare. Non c'è la fantasia di lavorare per la fama. Questo è più lungo, faccio così. Dai, questi due faccio così. E questo altro senza ruolo. Questo, questo. Questo faccio così. Questo vuole scampiare. Oh! Ecco, è più sbile. E' più giù. E' più giù. L'altro è giù. E' ancora alto. Senza. E' l'altra. E' qua. Cosa? E' una meridiana. E' un po' questa. E' un po' questa. E' un po' questa. e' una cosa. E' bisogna accorciarla. E' la piazza. E' la piazza. E' la piazza. C'è la piazza. questo è più lungo poi qualcuno qua lo ribasserò allora vi ho fatto vedere una cosa questa è la puntatura dei salci questi sono i più grandi questi più piccoli quindi con la pazienza e con l'esperienza di abbracciando agricolo ho perso tempo effettivamente se paga una persona è meglio con la scipetta comunque è bello lavorare qua al mio orto con impegno e passione il segreto della vecchia è essere sempre impegnato beh io a 67 anni sono impegnato con il mio orto ci troviamo all'altipiano del Cucino, Comunque Marci provincia dell'Aquila Regione Abruzzo 25 aprile 2022 manca poco e mezzo giorno grazie a tutti grazie a tutti